MaesnoMaps è una piattaforma web e mobile che permette innanzitutto all'escursionista invernale di conoscere qual è lo stato del manto nevoso nel territorio italiano, ma non solo, anche a nord delle Alpi, per pianificare la propria gita. I dati che l'escursionista usa sono elaborati da una piattaforma di calcolo che abbiamo sviluppato che prende in ingresso le previsioni meteo, i dati satellitari e le misure di neve che vengono fornite dagli escursionisti tramite l'app durante le loro escursioni. In questo modo noi possiamo monitorare il territorio, avere sempre informazioni attuali sullo stato della neve, perché? Perché la neve è importante, in quanto poi si scioglie, diventa acqua, va nei corsi d'acqua e alla fine può essere turbinata. Quindi i beneficiari di queste informazioni, di questo calcolo, possono essere gli idroelettrici, possono essere gli enti istituzionali che sono interessati a quantificare quant'è la risorsa d'acqua nel territorio.